Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e purtroppo con un fatto triste che si è consumato nel corso del pomeriggio a Pineto in un tratto di spiaggia vicino alla torre di Cerrano dove appunto è annegata una bambina di sei anni originaria del Friuli, era in Abruzzo in vacanza, una fatale distrazione si è allontanata dall'ombrellone dove si trovava con la madre e appunto poi è annegata. Vediamo. Una distrazione fatale e una bimba di appena sei anni perde la vita. Una tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Pineto in un tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento balneare Eucaliptus e la torre di Cerrano, una bambina originaria del Friuli in vacanza in Abruzzo è annegata, inutili i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione la piccola che era nello stabilimento balneare con la madre ad un certo punto intorno alle 16.30 si sarebbe allontanata dall'ombrellone. Non vedendola più vicino a sé la madre ha fatto lanciare un appello allo stesso stabilimento per poter ritrovare la piccola smarrita. Dopo pochi minuti la bimba è stata vista in mare nei pressi del bagnasciuga e riportata sulla spiaggia ad alcuni bagnanti. Subito la situazione è apparsa molto grave. Alla piccola è stato immediatamente effettuato il massaggio cardiaco dagli uomini del salvataggio dello chalet. Subito dopo sono accorsi gli uomini del 118 con due ambulanze. Da Terramo è giunta anche una eliambulanza. Sul posto anche la polizia municipale di Pineto, uomini della guardia costiera, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio e il vice Cleto Fallini. Diversi i tentativi di rianimare la piccola ma non c'è stato nulla da fare. Nelle prossime ore si cercherà di capire se la morte è stata dovuta proprio ad annegamento o a un malore dovuto a congestione. Il personale del 118 ha prestato soccorso anche alla madre che sotto shock per l'accaduto ha accusato un malore. Non è purtroppo l'unica tragedia in mare avvenuta a quest'oggi perché un altro uomo è morto questa mattina ad Alba Adriatica. Si tratta di Marcello Roberti, 76 anni, originario di Vicovaro Mandela in provincia di Roma. Poco dopo le ore 11 nello specchio di mare antistante l'hotel Principe a Villafiore è annegato. L'uomo deve aver accusato un malore mentre si trovava in acqua ed inutili sono stati soccorsi portati dal personale di servizio degli sciale vicini e dal 118. Roberti era in vacanza con la famiglia ad Alba Adriatica. Poi ancora per la cronaca un anziano di 92 anni di Pescina in provincia dell'Aquila è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio aggravato. Il 92enne lo scorso 25 marzo durante la notte aveva incendiato all'abitazione del genero lanciando due ordigni rudimentali realizzate con canne e bottiglie di plastica contenenti materiale infiammabile. Alla base del gesto sono emersi in seguito di indagini svolte dai carabinieri della stazione di Pescina vecchi dissapori. Su disposizione del GIP del Tribunale di Avezzano è stato associato agli arresti domiciliari. E ora parliamo dell'anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Oggi cerimonia all'Aquila. L'occasione per il comandante regionale Flavio Agnello di illustrare l'intensa attività delle fiamme gialle nei primi mesi del 2016. rappresentanza del comandante regionale Flavio Agnello e della scuola e scrittori sull'intervento dell'Aquila. Sezione anche per la provincia dell'Aquila pronta per l'assegno. Grazie. Come polizia tributaria economico-investigativa possiamo agire sulle leve che ci sono più abituali che sono innanzitutto il recupero di materia imponibile sottratta a tassazione, quindi il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Poi molto importante il contrasto della mala gestio della spesa pubblica perché se la spesa pubblica viene gestita e spesa bene ovviamente maggiori risorse entrano nelle casse dello Stato e poi la tutela del mercato dei beni e dei servizi. Contrasto all'evasione fiscale, alle frodi, all'economia sommersa e legale in tutte le sue forme, controlli sulla spesa pubblica e attenzione ancora altissima sull'ingenti flussi economici della ricostruzione post-sismica. Questo è lo scenario d'azione illustrato dal generale Flavio Agnello, comandante regionale della Guardia di Finanza, in occasione della cerimonia di anniversario della fondazione del corpo celebrata nella caserma Tito Giorgi dell'Aquila. Durante la cerimonia sono stati premiati i militari delle fiamme gialle che si sono particolarmente distinti. Toccante poi l'intitolazione della palestra, il luogotenente Demetrio Antonio Mariani, prematuramente scomparso. La cerimonia è stata poi l'occasione per snocciolare qualche numero dell'attività svolta nei primi cinque mesi del 2016 dalle fiamme gialle. Per quanto riguarda l'evasione fiscale sono state 55 le denunce, due gli arresti, 3,4 milioni di euro il valore dei beni già sequestrati, ma c'è una richiesta di sequestro per altri 5,8 milioni. 124 sono poi lavoratori in nero scoperti, 50 i datori di lavoro denunciati. Per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma sono 3,3 milioni di euro i contributi lecitamente richiesti o percepiti, scoperti a seguito di serrati controlli su oltre 18 mila appalti. Sono poi 29 le persone segnalate all'autorità giudiziaria, ben 19 milioni il valore dei beni sequestrati. Dedicheremo una particolare attenzione ai flussi di spesa che sono connaturati alla ricostruzione post-sisma. Voi sapete che stiamo andando avanti, come dire, a sprombattuto per quanto riguarda le provvidenze che arrivano dal governo, sia per l'edilizia privata che per l'edilizia pubblica. Quello di oggi è stato il primo giorno per gli esami di maturità. Sono circa 11 mila gli studenti abruzzesi impegnati su mezzo milione di maturanti in tutta Italia. Oggi come di consueto la prima prova con il tema d'italiano tra le tracce Umberto Eco e il voto alle donne. Ogni esame è il suo spauracchio che per la prima prova della maturità 2016 il tema d'italiano ha assunto il volto e il nome di Umberto Eco. L'analisi del testo di un brano tratto da un saggio sulle funzioni della letteratura del grande scrittore, filosofo e semiologo non inserito nel normale programma di studi ha spiazzato gli studenti, anche se in molti hanno ammesso che un testo di Eco era ampiamente prevedibile. Molti studenti hanno optato per altre tracce, il voto alle donne nel 46, il tema dei confini da una citazione di Piero Zanini, il rapporto padre e figlio in arte e letteratura da Saba e Kafka, il valore del paesaggio, l'uomo e l'avventura dello spazio ed infine una riflessione sul PIL e l'economia. Come sempre c'è stata la corsa ad anticipare l'apertura del plico telematico contenente le tracce del ministero. Già dalle 8.30 di questa mattina si sono rincorsi i rumors su Eco, PIL e voto alle donne, poi rivelatesi corretti. Alle 9.15 sul profilo facebook di studenti.it sono state pubblicate le fotografie delle tracce. Domani invece seconda prova, differente per ciascun indirizzo di studi, greco al classico, matematica allo scientifico. Cambiamo ancora pagina dopo il non esaltante risultato ai ballottaggi delle amministrative. in Forza Italia è iniziata la riflessione per capire le cause di quanto accaduto. Intanto è scontro tra i vertici regionali del partito e il senatore abruzzese Antonio Razzi. Febo, passati i ballottaggi, tempo di riflessioni in casa di Forza Italia. La vittoria del Partito Democratico è stata netta ed indiscutibile nelle città in cui si è andati al ballottaggio e in Forza Italia c'è polemica da parte anche di esponenti del Partito Nazionale nei confronti del coordinatore pagano. Ma guardi, intanto si è votato in due domeniche diverse. La prima domenica Forza Italia e il centrodestra è andato benissimo. Abbiamo ribaltato situazioni decennali. Penso a Penne, penso a Manopello, penso a Casalbordino, a San Giovanni di Adria e potrei continuare. Poi c'è stata la famosa sfida, i quattro ballottaggi di domenica scorsa dove in effetti c'è stata nessuna vittoria da parte del centrodestra e da parte delle candidature di Forza Italia ma che comunque su cui Forza Italia ha dimostrato che un partito vivo è forte all'interno del nostro territorio. Dove le cose le abbiamo fatte seguendo quelle che erano le nostre indicazioni, le mie indicazioni, cioè seguendo il tracciato dei tavoli a cui quando non c'è la sindesi seguono le primarie serie. Vedi Vasto? Sì, a Vasto indubbiamente abbiamo perso, ma per 121 voti. Non mi sembra che sia una grande vittoria del Partito Democratico che governava la città. Senatore Razzi ha chiesto senza mezzi termini l'azzeramento dei vertici del partito. Guardi, io con il coordinamento regionale non mi corre molto buon sangue, però mi ci confronto. Con il senatore Razzi preferisco non parlarci, tanto perché conosco da dove proviene. Io parto sempre dal presupposto che chi tradisce una volta tradisce sempre. La seconda cosa, mi sembra che il senatore Razzi si era impegnato in campagna elettorale a Roma, prima come candidato sindaco, poi in appoggio di Marchini. Mi sembra che non si sia né candidato a Roma né abbia mai partecipato a nulla in Regione Abruzzo, in nessuna convenzione. Allora, prima di fare quelle affermazioni magari si facesse un lungo esame di coscienza. più preferenze nella lista di Forza Italia e non al candidato sindaco, perché con l'apparentamento è venuto meno il legame tra la lista e Elisabetta Bianchi, candidato sindaco originario. Ciò che conta è che Forza Italia sia rappresentata in Consiglio Comunale, ha commentato a caldo Elisabetta Bianchi. Tuttavia, verificheremo in maniera più approfondita il caso, in quanto sul sito del Ministero degli Interni, risulto ancora tra gli eletti. E ora ci spostiamo a Penne, perché ieri si è tenuto il primo Consiglio Comunale dopo l'elezione a sindaco di Mario Semproni. Primo Consiglio Comunale per la nuova amministrazione di Penne, sala gremita di curiosi e di cittadini. C'è stato anche un pizzico di polemica, un pizzico che però è servito soltanto a capire che saranno cinque anni difficili ma che riporteranno in cima Penne allo splendore di una volta. Il nostro impegno è quello che ho ribadito dal primo giorno. Noi siamo in opposizione, ma la nostra sarà un'opposizione intransigente ma responsabile. Il nostro unico obiettivo è quello di realizzare il programma scritto con i cittadini e dai cittadini e ovviamente bloccare tutto ciò che a nostro avviso e ad avviso della cittadinanza di Penne non fa il bene della collettività. Come deve essere un'opposizione responsabile, corretta, attenta alle attività di questa amministrazione di maggioranza, ma sicuramente con uno spirito propositivo. Io farò in modo che il nostro programma elettorale lo possa in qualche modo attuare e proporre a questa maggioranza e fare in modo che il nostro lavoro diventi proficuo e costruttivo soprattutto per i cittadini. Io dico che con questa prima iniziativa che c'è stata abbiamo superato il rodaggio, quindi adesso la macchina è pronta per muoversi ed è una macchina che dovrà muoversi molto presto e rapidamente perché i problemi della nostra città sono veramente tanti. Le criticità di questa nostra città, non dimentichiamo il problema dell'ospedale che rischia di subire un drastico ridimensionamento, non dimentichiamo nemmeno il problema che riguarda Labrioni e anche in questo io sono già in contatto con gli amministratori locali. Il codice rosa nei pronto soccorso è legge, esulta il promotore, ovvero il consigliere regionale del gruppo Misto, Leandro Bracco. Allora il codice rosa è un percorso di accesso privilegiato per tutte quelle donne che trovano soprattutto la forza morale di dire basta a tutti i soprusi che subiscono da parte di ex conviventi, mariti, fidanzati, gli ex in generale, cioè con gli uomini che non accettano il fatto che una relazione possa terminare e quindi purtroppo in molti casi queste donne trovano anche la morte per mano di questi ex. Quindi le donne che trovano la forza di andare a pronto soccorso e dire basta, voglio denunciare, voglio farmi medicare, non voglio più vivere nell'ipocrisia e dire sono caduta dalle scale, ho battuto contro il mobile eccetera, ma hanno veramente la forza di dire basta e raccontare la verità, troveranno in tutti i pronto soccorsi d'Abruzzo una corsia di accesso privilegiata per la loro situazione. La sua proposta di legge è stata accolta bipartisan dal centro-destra e dal centro-sinistra, non dal Movimento 5 Stelle. Questa proposta di legge ha avuto un percorso tortuoso, è stata diverse volte in commissione, nella commissione quinta, quella presieduta da Mario Olivieri, il 5 Stelle ha votato contrario, poi è andata in prima commissione per il parere finanziario, perché questa è una proposta di legge a costo zero, che comunque doveva andare in prima commissione e il 5 Stelle votò favorevolmente, ha votato per il sì, è tornata poi in quinta per il via libera definitivo e lui ha votato no. E poi in aula si sono astenuti. Coinvolgere la cittadinanza per far capire l'importanza del referendum che a ottobre deciderà se cambiare la Costituzione degli italiani. Con tale obiettivo i consiglieri comunali del PD a Chieti costituiscono un comitato per il sì e spiegano le ragioni del voto. Incontrare la cittadinanza è rendere più diretto il contatto con gli elettori, tutti, soprattutto in occasione del voto per il referendum costituzionale. Si mobilita il PD di Chieti che presenta il nuovo comitato per il sì, determinato a rendere consapevoli tutti dell'importanza del voto e del significato del sì. Essere vicini alle persone, questa mattina lo facciamo nel mercato del martedì a Piazza Garibaldi vuole dimostrare la volontà di abbattere le frontiere, di parlare ed essere vicini alle persone senza quelle barriere, quelle distanze che magari nelle stanze chiuse hanno dimostrato non premiare le politiche del PD ma anche di altri partiti. Qual è assolutamente il mostro da sconfiggere? Il mostro da sconfiggere è che non si entri nel merito della riforma costituzionale, che quindi i cittadini siano magari portati o a non votare, ritenendo che una riforma costituzionale non li interessi direttamente, quindi evitare sia questo, l'astenzione, nonché che il voto si trasformi in un voto contro. Perché votare sì? Perché è una legge elettorale, l'Italicum più la riforma ovviamente del Senato, è una legge elettorale che permetterà governabilità per cinque anni a chiunque vince. Penso che questo sia un principio che avviene ovunque. Chi vince governa, tranne in Italia dove invece abbiamo sempre avuto dei pareggi e governano poi tutti insieme con conseguenze difficili. L'Arta con i suoi tecnici in un apposito corso che partirà giovedì 23 giugno, quindi domani, informerà gli agenti della Polizia Locale sulla corretta gestione dell'inquinamento accidentale e sulle politiche ambientali. Sindaco, quanto è importante fare politica ambientale e coinvolgere le polizie municipali nel controllo del territorio, soprattutto sotto l'aspetto dell'ambiente? Credo che in questo momento sia fondamentale. Abbiamo un territorio qui in Abruzzo che è splendido, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo i laghi, abbiamo i parchi, dobbiamo saper salvaguardare il nostro habitat, dobbiamo saper essere attenti a gestire ogni aspetto e ogni problematica. Oggi attivare questa sinergia con i comuni limitrofi e con le polizie municipali del territorio serve a garantire ai cittadini una presenza maggiore della pubblica amministrazione a tutela della loro salute. Non dobbiamo perdere nessuna occasione per essere presenti ed essere vigili. La formazione è sia teorica e soprattutto pratica perché con la parte pratica si acquisiscono e si mettono in atto quanto già imparato dal punto di vista teorico. Insieme ai colleghi delle polizie municipali faremo vedere le attività proprio di prelievo, di controllo dei siti inquinati, quindi fare prevenzione, contenimento degli inquinamenti e attività di miglioramento della tutela dell'ambiente. Poi sul territorio provinciale operate da tempo in fatto di operazioni ambientali? Operiamo come tutte le altre forze di polizia proprio per tutelare l'ambiente e cercare di migliorare la salute del nostro territorio. Il lungomare Matteotti di Pescara ospiterà dal 23 al 26 giugno la manifestazione X Masters organizzata dal Network Nazionale di Radio DJ in collaborazione con l'amministrazione comunale. Parte la stagione degli eventi. Da giovedì X Masters DJ, una rassegna di sposte estremi, un villaggio importante all'Arena del mare, non solo sport non convenzionali ma anche tanta musica, tanto spettacolo, tanto divertimento appunto con Radio DJ. Ringrazio gli organizzatori per aver creduto in questa piazza importante come Pescara. È un evento che rispecchia la dinamicità della nostra città. Si farà solamente in altre due città italiane come Senigallia e Riccione. L'anteprima sarà Pescara e noi siamo felici di ospitarlo e di metterlo a sistema nei prossimi anni appunto per rigenerare quella che è l'attrattività, la funzione dedita al divertimento, al turismo della nostra città. È un evento che parla di action sport dove comunque presentiamo 20 discipline sportive. È un villaggio totalmente gratuito quindi dove tutti i visitatori, tutti i cittadini di Pescara potranno venire, divertirsi e provare tutte le iniziative gratuitamente. Quindi con degli strutturi federali che gli faranno vedere che discipline trattiamo riguardo l'action sport. Oltre a questo ci sono dei contenuti comunque di intrattenimento serali quindi con dei concerti che saranno dal giovedì al venerdì al sabato sera, ci saranno dei concerti promossi insieme a Radio DJ che dureranno insomma dalle 8 di sera in poi. Quindi oltre alla parte sportiva anche una parte di intrattenimento. Anche la parte dei concerti comunque gratuita quindi invitiamo tutti comunque a venire in spiaggia e divertirsi in questo weekend dal 23 al 26 di giugno. Ai nastri di partenza l'estate farnese con la festa della birra dal 24 al 26 giugno a Sant'Onofrio di Campli. Torna dal 24 al 26 giugno la festa della birra a Sant'Onofrio di Campli. Quali saranno gli appuntamenti? Dal 24 al 26 stende gastronomici con salsicce, panini alla porchetta, patatine fritte e arrosticini. In più ci saranno tre stand di birre di cui uno di birre tradizionali, nazionali e internazionali e due di birre artigianali che sono dei birrifici locali. Uno è di Battaglia di Campli, birrificio Ramoni e l'altro è di Civitella, birrificio La Fortezza che saranno presenti alla manifestazione. La domenica ci sarà proprio un convegno sulle birre artigianali che sarà tenuto da questi produttori. Quindi spiegheranno come si realizza la birra, quindi i vari componenti, tutta la procedura. Sant'Onofrio è il tessuto sociale, economico più vivo del Comune di Campli. E infatti tutte le sere, anche senza eventi, è pieno di gente, proprio perché ha una posizione geografica favorevole, no? Cioè a 10 minuti da terra, a modo da piano d'accio sono 10 minuti, a 15 minuti dal mare e ha un tiro di schioppo da tutti i comuni, dalla Val Vibrata, Bellante, eccetera. Quindi noi crediamo che questa manifestazione sia molto importante, apre tutti gli eventi estivi e credo, sono sicura, che avrà lo stesso successo di Aperi Post della settimana scorsa. E ora apriamo la pagina dello sport, ovviamente con il calciomercato in primo piano. Per quanto riguarda il Pescara si avvicina la concretizzazione di un paio di operazioni di mercato in entrata. È praticamente fatta per Brian Cristante, giocatore scuola Milan, classe 1995, ma dal 2014 giocatore ceduto a titolo definitivo al Benfica. Ieri lo stesso presidente Sebastiani aveva confermato di essere al lavoro per portare in riva l'adrileitico il giovane e promettente centrocampista Benfica e Pescara. Sono allo scambio dei documenti, a breve l'operazione troverà un'ufficializzazione. In attesa di conoscere l'esito delle trattative per Riavere, Verre e Mandragola, Cristante rinforzerà il pacchetto mediano cercando riscatto dalla breve e poco proficua l'esperienza a Palermo dello scorso campionato. A Palermo era andato in prestito anche a Pescara. Cristante arriverà in prestito. Un'altra operazione in entrata molto vicina alla formalizzazione è quella con il difensore centrale di origine albanese Arlind Ajeti. Qui lo vediamo nella foto. Giocatore che al momento è impegnato nel campionato europeo con la sua nazionale in attesa di sapere se l'Albania si potrà qualificare. Molto difficile alla fase ad eliminazione diretta. Ajeti ha giocato lo scorso campionato molto bene con la maglia del Frosinone, sempre in Serie A. E ora cambiamo pagina e parliamo dell'accordo formalizzato questa mattina tra la Teramo Calcio e la Bonolis di Teramo. Un accordo per il settore giovanile. Vediamo. Massimo D'Aprile, per te comunque questo è un ritorno, se vogliamo, a casa. In un'altra veste, ma comunque sempre di ritorno a casa si tratta questa collaborazione. La Teramo Calcio nella sua storia non ha mai delegato un proprio ramo a un'altra società. Quindi penso che sia un riconoscimento importante da parte della Teramo Calcio perché effettivamente ha avuto la possibilità di verificare nei due anni di attività della Bonolis come lavora la Bonolis. Non un traguardo ma un punto di partenza. Abbiamo dei numeri veramente importanti, in quanto parliamo di circa 200 ragazzi. Sicuramente saranno destinati ad aumentare notevolmente. Poi per quanto riguarda la mia situazione, io l'ho ribadito in conferenza e colgo l'occasione per ribadirlo anche qui. Non è un ritorno, nel senso che io dalla Teramo Calcio non sono stato mai lontano. Né quando giocavo a Calcio e giocavo in Lombardia, in Piemonte o in Calabria né ora che in ogni caso sto svolgendo queste attività a Teramo. Teramo per me è il primo obiettivo, lo è stato sempre al giocatore, lo è da dirigente ma oggi sicuramente il mio interesse è focalizzato solo e esclusivamente sulla mia scuola a Calcio. Due entità che rimarranno comunque distinte, ma che cosa può dare la Bonolis al Teramo? Qual è il valore aggiunto? La Bonolis al Teramo può dare sicuramente ad oggi un bacino di cui penso due società nella provincia di Teramo dispongono che sono il Bariatica e Cologna, nessuno ad oggi dispone il bacino di cui dispone la Bonolis. Abbiamo istruttori, penso i più capaci che in ogni caso il territorio possa dare. La cosa che mi fa più piacere è che nell'accordo sottoscritto tra la Bonolis e il Teramo non si parla di soldi né da una parte né dall'altra. Quindi vuol dire che da parte di tutti c'è la volontà di donare e di crescere senza guardare un interesse personale, ma solo la crescita della Teramo Calcio e dei ragazzi di Teramo. Chi ama Teramo è giusto che faccia il bene della Teramo Calcio. Oggi la scuola a Calcio è un progetto importante, cominciamo a lavorare veramente bene sul territorio con delle forze importanti e secondo me si può fare veramente un buon calcio, ma soprattutto una scuola a Calcio. Poi i giocatori, capire se sono bravi o non sono bravi è una parola grande. Però avere delle idee di come poter fare il calcio dopo aver fatto una scuola a Calcio. Teramo Calcio attiva anche sul fronte della prima squadra perché è notizia del tardo pomeriggio la firma dell'attaccante Antonio Croce. Qui vediamo nella foto la nuova punta nativa di Foggia, trentenne, proviene dal Monopoli dove ha disputato l'ultimo campionato di Lega Pro nel Girone C. ha mosso i primi passi nella primavera dell'Inter diventando capocannoniere del torneo di Viareggio nel 2005. Poi ampio il suo curriculum tra tante le squadre dove ha giocato. Anche in Abruzzo ha indossato le divise del Cologna Paese in Serie D e poi in Lega Pro di Celano e Provasto. Antonio Croce ha firmato un contratto biennale, ha già sostenuto nel pomeriggio le visite mediche. Dunque dopo Carlo Ilari è lui il secondo rinforzo per la squadra del neotecnico Lamberto Zauli. E ora scendiamo, o meglio cambiamo disciplina, parliamo di calcio a 5 perché oggi l'Acqua e Sapone ha presentato il suo nuovo allenatore, lo spagnolo Fuentes, che prende il posto di Bellarte. E Juan Francisco Fuentes Samora, il nuovo allenatore dell'Acqua e Sapone Calcio a 5. Spagnolo di Mursia, classe 79, Fuentes raccoglie l'eredità di Massimiliano Bellarte. Bel gioco, qualità e valorizzazione dei giovani sono i fattori che hanno convinto il club della famiglia Barbarossa a scegliere l'allenatore che quest'anno ha portato la Luparense a giocarsi la semifinale Scudetto dopo un difficile inizio. Fuentes ha iniziato nella squadra della sua città, il Poso Mursia, e prima di approdare in Italia ha compiuto un bienio con il Casma in Kuwait. Sono molto contento di arrivare a questa società, aspetto a stare al livello che questa società merece perché stanno facendo un esforzo grande per il Caccia 5, già con sei anni fa, che stanno lavorando con questo sport e per me è un'opportunità molto grande e aspetto a approfittare al massimo e apportare il mio conoscimento, la mia esperienza per che questa società continui crescendo e che arrivi al massimo possibile. È soddisfatto Fuentes del roster che sta nascendo con l'Acqua e Sapone che dopo aver confermato tre assi come Murilo, Jonas e Mamarella, ha messo sotto contratto De Oliveira, Romano e il Capitano Azzurro, Gabriel Lima. La società sta facendo un esforzo per fare una buona squadra, per illusionare a tutti, ai tifosi, a tutti chi lavora in questa società giorno a giorno che fa un esforzo grande e dà tutto quello che c'è per crescere e anche per me perché venire qua per allenare a questo tipo di giocatori dimostra che è un'opportunità per non pensarla due volte sino a decidere alla prima. Ed ora la palla a mano, dal 5 all'11 luglio torna a Teramo l'Interamnia World Cup 44esima edizione denominata quest'anno Insieme per la palla a mano. Novità in arrivo in occasione dell'evento tanto atteso nella città di Teramo, la Coppa Interamnia quali saranno? Rispetto a quello che possiamo supportare noi per la Coppa vorremmo, e stiamo organizzando chiaramente in coordinamento anche con le organizzazioni della Coppa. Noi riteniamo che è un momento in cui la città di Teramo avrà forse uno dei picchi maggiori per quanto riguarda la pubblicità della città e quindi noi pensiamo di inserire all'interno di questa manifestazione e anche lo sviluppo di alcuni prodotti tipici, vinicoli, e quindi stiamo organizzando questo insieme all'organizzatore. La location sarà il teatro romano? Diciamo che come location è il teatro, non è detto che sia dentro, stiamo organizzandoci perché oltre, noi vogliamo sviluppare oltre alla tradizione enogastronomica anche la nostra storia, quindi per dire a chi arriverà, chi siamo e cosa abbiamo. I numeri della Coppa ricalcano quelli della passata edizione, con circa 120 squadre provenienti da 28 nazioni. Sarà una Coppa dai capelli biondi, visto che tra le curiosità segnalate da Fabrizio 40, braccio destro del patron Pierluigi Montauti, c'è quella della delegazione danese, e in assoluto la più numerosa, con ben 44 squadre e oltre 700 presenze. La Kermes, anche quest'anno, ospiterà delegazioni significative di paesi mediorientali, tra cui quella iraniana. Con la palla a mano concludiamo questa edizione del TG6, TG6 che torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.